Presenta la Formula Funziona, la Cerle, top manager, la Zana, top reporter e la Baldins, top DWA, partono per nuove mete. Si vola! La DWA è pronta per partire? Sicuro. Mi hanno anche testo le impronte digitali. La vedi, sono te l'unica! Solo neve, per più gente come me. Qualche scapposo ti vuole, ti vuole, ti vuole, ti vuole, quando vuole andare a fare il commercio, ma ti funziona. Dio, dì accanto, proprio. E' vero, perché così lui ti si avvicina e ti dice che è tranquillo, guarda, un altro, 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 un altro. Ciao ragazzi, io sono l'italiano nero, benvenuti. A me mi ha insegnato a vendere quello che c'era su Italia 7, Roberto, quei baffi, quelli baffi. E sbatteva. Questo è un vecchio trucco berbero, con le dita secche sarebbe un fard, bagnato e un rossetto per le labbra. Non così, ma si bagna, si sfrega e dà un rosso per le labbra. Fatto con i fiori di papavero e l'argilla, la terra cotta. Benvenuti in Marocco, ciao! Ciao! Siamo a Marrakesh. Siamo a Marrakesh. Questo potrebbe essere il nostro ultimo saluto. Buon appetito, siamo al nostro primo pranzo. Sì, in buco. La stessa lì, la stessa lì. Sì, è un lì. Questa è lì, la stessa lì. Allora hai visto lì, la stessa lì della stessa. Allora hai visto lì di tolto. Grazie a tutti. 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 e a tutti. a tutti. a tutti.